Firenze tiene a battesimo la European Nightlife Association, l'associazione europea delle discoteche, formata dalle rappresentanze degli imprenditori italiani, francesi e spagnoli. Obiettivi prioritari? Rappresentare gli interessi del mondo della notte nei confronti della Commissione europea e stimolare confronto e scambio di informazioni tra le associazioni aderenti. Alla guida del primo triennio è stato eletto Maurizio Pasca, presidente del SILB, l'associazione italiana dei locali serali aderente a FIPE e Confcommercio. Le problematiche sono simili anche agli altri paesi, principalmente quelle dell'abusivismo, ma anche il problema sociale, quello dell'alto diffuso tra i giovani. L'associazione europea conta già 11.000 imprese associate in grado di generare un fatturato aggregato di circa 15 miliardi di euro.